Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove ci sono 5 km di coda per lavori tra Lucca Est e Capannuri in direzione Firenze. Sempre per lavori verso Pisa 1 km di coda tra Alto Pascio e Lucca Est. Code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Roma per lavori, 2 km di coda tra Albivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. In A12 l'entrata di Colle Salvetti in direzione Genova è chiusa per lavori. Spostandoci sulla FIPL per lavori, 2 km di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. 1 km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Empoli Est in direzione Firenze. Coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Scandici e Firenze, Scandici in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!